la butto lì e lo so che chiedo tanto ma non è che c'è una terzina per festeggiare i 35 di Zedig dura, lo so che è dura e ora che io di Fiction sono un manzo vi auguro un lieto augurio e un buon auspizio a te Giancarlo Bozzo Ale e Franzo un bacio dall'astrico Maurizio ma è ragazzi un rapper a te Giancarlo Bozzo